Gianni Sperti Uomini e donne news, Gianni Sperti si è laureato Un grande giorno per Gianni Sperti quello di oggi, lopinionista di Uomini e Donne si laurea e condivide tutto sui social. Gianni Sperti, uno dei volti noti di Uomini e Donne, oggi ha condiviso sui social una notizia molto importante per lui. Un grande traguardo è stato raggiunto dallopinionista ospite fisso da Maria De Filippi che, molto contento, ha deciso di condividere su Instagram le foto della sua laurea. . Per comunicare ai suoi followers il lieto evento Gianni ha prima postato alcune foto prima della proclamazione, per poi mostrarsi con in testa la sua corona dalloro in mano la sua tesi di laurea. . Laureato in economia aziendale, oggi Gianni Sperti è un dottore a pieno titolo. Qualche anno fa aveva dichiarato la sua gioia per aver ripreso gli studi dopo tanto tempo e, adesso, un altro obiettivo è stato raggiunto dallo stesso. . Forse non molti sanno infatti che Gianni Sperti, per aver iniziato giovanissimo la carriera da ballerino, ai suoi tempi non era riuscito a diplomarsi. . Una cosa che da adulto aveva finito col pesargli troppo. . Dopo tanti anni passati lontano dai libri e dalle aule scolastiche però Gianni non si era dato per vinto e, da adulto, aveva ripreso proprio da dove aveva interrotto tutto. . Un percorso in salita ma che ha finito con regalargli molte soddisfazioni. Dopo il diploma arriva la laurea e per lex marito di Paola Barale questo sembra essere davvero, davvero un bel momento. Gianni Sperti, da ballerino a opinionista di Uomini e Donne. . La presenza di Gianni Sperti a Uomini e Donne è praticamente un punto fisso del programma. . Lui e Tina continuano ad allietare e a divertire non solo la padrona di casa, Maria De Filippi, ma anche il pubblico. . I Sperietti sempre più coloriti e sopra le righe tra lui e la Cipollari sembrano essere ormai una peculiarità della trasmissione che, con la messa in onda del trono over, è riuscita a raggiungere livelli molto alti di consenso. . 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